Lei si è fatto promotore già da tantissimi mesi, ma se ne occupa da anni, di un dibattito sull'acqua, di un dibattito sull'invaso di Monte Cotugno, anche e soprattutto come rappresentante d'Italia Nostra. Da ieri al dibattito si aggiunge un tassello in più. Perché? Che tipo di avviso è stato pubblicato sul sito della Regione Basilicata? Ma sul sito della Regione è stato pubblicato un avviso di un'azienda che praticamente su tutti gli invasi, gli specchi d'acqua della Basilicata sono circa 15, compreso le due dighe del Camastra e della Nostra Diga. Su questa semplificazione, per aumentare le fondi energetiche alternative, quindi del fotovoltaico, di mettere questi pannelli fluttanti, come si usa dire, cioè che galleggiano solo sull'aspetto dell'acqua. E fin qui niente in contrario, perché se è vero che siamo in una fase di transizione ecologica, se non vogliamo il petrolio, se non vogliamo il gas, bisogna trovare le fondi energetiche alternative. Quindi in linea di massima siamo d'accordo a fare questa operazione. Però la Basilicata ha una sua specificità e una sua tutta considerazione da fare. Intanto, premianalmente, noi abbiamo già dato, in quanto è petrolio, in quanto a fattori energetici, la Basilicata ha un surplus, anche nelle fondi alternative, adesso abbiamo già dei gigawatt superiori rispetto al consumo che facciamo, quindi come impostazione proprio principale. Questo avviso, praticamente, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la dichia di Montecotugno e forse anche, no, senza forse, anche l'OS di San Giuliano, è irricevibile in quanto il decreto stesso dice fatte salve queste semplificazioni, cioè questi pontili galleggianti, possono andare con una tradizione semplificata, ma fatte salve, e lo dice proprio in un comma, le aree protette di rete naturali 2000, cioè le aree che hanno una loro specificità. E qui, adesso facciamo la nostra considerazione, ma sono anni che stiamo dicendo che insieme al sacrificio che i territori hanno fatto, insieme al discorso di una compensazione ambientale che riguarda non una semplice numerazione di opere pubbliche, ma proprio un investimento duraturo nel tempo su tutta la problematica ambientale che riguarda le sponte, riguarda il paesaggio, riguarda la riforestazione degli ambienti, cioè riguarda una ristrutturazione del paesaggio in termini sostanziali, con la compensazione che non è ancora avvenuta, è tutto fermo, nonostante tanti sforzi. Adesso quest'altra teola, se dovesse passare questa filosofia, noi ci troviamo qui, in questo bacino, con una sberla, con un mostro, perché mediamente sono 65 ettari, c'è qualcosa come un mostro di un chilometro e mezzo per 200 metri, ci troviamo in questo manufatto, che disturberebbe certamente, allontanerebbe le persone a venire pure, diciamo, qui a godere di queste bellezze. D'altra parte tutti i dibatti, non c'è spiego della Basilicata, dove non si dice che bisogna coniugare in questo momento, bisogna più investire sulla natura, sulla natura, sui paesaggi. La Basilicata ha fatto dei sacrifici, ma però è vincente nel momento in cui questa, diciamo, offerta naturalistica, offerta di paesaggio, offerta, diciamo, di un modo diverso di intendere anche la vita e il quotidiano, possiamo essere più attrattivi. L'avviso non dovremmo proprio rispondere, nel senso che non doveva proprio essere messo nell'avviso anche l'area di Montecotugno. E su questo, e su questo, allora, ieri ci sono stati delle note dei comunicati stampa, allora uno che è dello stesso avviso, insomma, di quella che è la sua opinione, quella di Italia Nostra e di quello che era presente, è Dino Scorie, che si è detto assolutamente contrario. Poi però c'è un comunicato della regione, di Cosimo Latronico, assessore regionale, del direttore regionale, che dice che è stato un atto dovuto, però non significa altro. Sì, l'atto dovuto, ho detto come dicevo prima, in linea di massima, sì, questa legge e le regioni devono applicare, ci sono questi grandi player, questi grandi, diciamo, non dico speculatori perché non sappiamo l'origine di questa azienda, ma ci sono questi grandi investitori che devono trovare qualcun altro, qualcuno gli avrà indicato che la Basilicata è piena di laghi e di bacine e quindi vengono, diciamo, ancora una volta a colonizzare, perché di questo si tratta, perché poi non c'è un vantaggio reale. Cioè, quindi, le due località che hanno scelto, io, non da competente amministrativo, ma da Scenelucano avrei detto che questi due laghi non li metto proprio a disposizione delle concessioni, perché si tratta adesso di fare una specie di gara, come dire, una preselezione delle aziende che poi dovrebbero, quelle che sono ammessi, dovrebbero fare tutta l'intera autorizzativa, semplice o complessa, a seconda delle aree dove si va a posizionare. Poi siamo sempre in zona Parco, questa è zona 2, zona D4, e il Parco, nel suo piano, che è depostato in regione e di cui mi pare che è stato già adottato proprio dall'Aggiunta regionale, prevede sul lago di Montecotugno investimenti che vanno nella sostenibilità dell'impiantistica, in caso mai sportiva, e della valorizzazione delle sponte. Ma mi dite voi, con un mostro di due chilometri sul lago, come faremo le gare di canottaggio, di altri sport, vela, canoa, quelli che si possono fare sempre in un discorso di, diciamo, di non inquinamenti di sostenibilità. Sicuramente anche questo sarà un tema che si discuterà, si snocciolerà, in un convegno organizzato subito dopo le feste a Senise 8 gennaio, al centro di questo dibattito, il lago di Montecotugno. Questo è il confronto, è un confronto stietto, sincero, al di fuori delle bandierine, abbiamo invitato il commissario, l'attuale commissario che sta lavorando proprio allo statuto, perché dal primo gennaio siamo lì, ormai la società dovrebbe prendere già azione, quindi già dovrebbe andare in porta, quindi vediamo se nello statuto riusciamo almeno a strappare una presenza, una qualche cosa che ci faccia capire come anche il territorio può, non dico controllare, ma essere protagonista nel futuro della programmazione di quest'area.